vai via facciamo partire la gente vuole vedere giocare giocare bene ragazzi facciamo il culo alla juve alla poli campionato che così saranno depressi subito è un sassuolo voglioso è un sassuolo che parte a mille ma che sveglia juve dorme all'inizio del campionato si vede aggraita da un sassuolo atroce basta che non becca il contropiede l'azione della juventus chiusa benissimo da raspadori che ha raspato alleggerisce alleggerisce signore la chiusura bellissima il camp è schifo l'ora di lapes 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 verani niente chiuso la vera amata l'imbucata perfetta idiota bellissima quadrado ero un racchio di quadrado incredibile occasione per la juve per passare in vantaggio il sassuolo ora è partito bene ma che ora è in affanno non ho sbagliato mamma mia si suda 38 gradi signori bella uscita oh quen va bene Luca falsoletico consigli si guarda che schifo fai guarda zi bellissima you rich you rich you rich a nulla a nulla che puttana sta saltando il condizionatore anche mmm non era una punizione ma c'è il consiglio lo stesso aspadori ha raspato fino adesso che fuori che schifo che fuori che schifo ma vuoi chiedete ma no ma si che fuori che roba leggerissi su consigli che giochicchia rischia questo balle vai fuori via adesso è solo devi tornare un po' più eh cioè che dire che ti fai idiota questo si anche questo non rischiamoli bello schifo abito lo stendo e quando qua li fa l'1-2 è bella è bella è bella mia bravissimo l'ottavo presa suolo schiga e la vacca schifo abito delle palle piene a faccia che lavoro che lavoro la Juve prima priva dei suoi campioni le assenze qualcuno col covid addirittura un po' va col covid un po' va col covid ah bene si rimane e va chi è con la chiesa chi è con la chiesa chi è con la chiesa chi è con il villaggio quel zio sassuolo che cerca di resistere per poi inventarsi qualcosa che cosa mi fa che mi ha tirato i suoi sensi sono morti i due ma vai o no figlio fatti vedere bravi questa nuova Juve cos'è? di chi è? ah è mia? ah no? via arbitro si 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 vedete io ho un piglio diverso rispetto a quella schifosa della nostra e dove passare il volume del microfono perchè secondo me pure le disumane bravi chiude stop dai vai o no figlio non vai un cacchio Gerardi sei morto ma che schifo di controllo fai muldo muldo che cazzo ottimo muldo cos'è? è nessuno degli anelli figlio che schifo dai un po' più di cuore magari no eh bene così qua no ho detto cuore eh dovete credere la zia? e va con un cacchio non è più che cacchio come? dai cacchio di difficoltà ma cazzo è schifo che cacchio che cacchio che doveva divieta io invece no giusto che cacchio che cacchio ma cacchio cos'è? ma ti stuta? te la chiudi ma fallo? ah si ma che fallo è? ha tranchato? no io ce lo voglio vederlo guarda la tranche in tranche attenzione che è tranche eeeh ma niente è terribile Sfio, che casino! Sfio, la sua condizione è pericolosissima. E va anche a più... X, va anche a te gli aiuti di mer... Quando? No, no, fighe ragazzi, no, resiste. Quando? E' alta, sì! E' alta, butta l'ortiche, l'aiuto! Sfifo! E' che spera anche che lo prenda nel gnavo dopo, fuori di fare degli errori. Dai, dove la lanci? Stop, bello. Numerico quadrato! Ma quello quadrato mi ha tenuto! Schifo! Bravissimo Ferrari! Bravo! Va bene! Dai, chieda lì! Bravissimo, la scompagna! Che lavoro! Io! Tati! Bravo Fede! Quanto cazzo va questo qua? Bravo Fede! Ti faccio andare io! Bravo Fede! Regore! Stavo ammazzando! Che rigore! Juve che reclama un rigore, mi sembra! Buono scambio del sassuolo, bellissimo! L'apes! L'apes chiuso! Ingiustamente infatti! L'arbitro finalmente interviene! Quanto più va! Eh no eh! Cazzo! Sette camicie il sassuolo! Chi richesse il lancio in avanti! Cercare Berardi! Che appoggia a favorire Muldo! Che mette in mezzo la palla! Muldo! Fa favorire Berardi! Berardi all'indietro cercare il compagno che non trova purtroppo! Accidente contro piede la Juve! Chiuso bene però! Bello scambio! Ancora Muldo! Fortissimo su questa fascia! Bravo! A cercare Berardi! Si incercano i due ragazzi! Lo tiene dietro! Bravissimo! Muldo! Il migliore in campo ragazzi! Chiusura di terra! Bravo! Caccia d'angolo! Bravo! Caccia d'angolo! Bravo! 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 Imaio! MAI! Io lo giuro a quella merda! Ma che rosso! Ma incredibile! E' buone amici! E' incredibile! La Juve ce l'ha già con gli arbitri! Ah! Che bello! Raspadori! Lancio bellissimo! Tu giuro 10! Cos'è? 10 te lo do io! In volo! Sassuolo che si difende con i dentacci! Ancora denti del sassuolo! Sassuolo che lancia benissimo! E' bravo! E' bravo! E' bravo! E' incredibile! Un contropiede! Magico! Un contropiede! Fulmineo! Dopo 45 minuti di sofferenza atroce! Un'occasione in contropiede! Il gol! Alla velo! Un contropiede! Di De Forel! Incazzatissimo! Lo scesne! Rivediamo! L'infilata incredibile! Palla recuperata di fortuna! Passaggio in avanti! Che schifo! E' ormai! Stop and go! Stop and go! Stop and go! Travolgerlo! 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 Guardate qua! Guardate! Ancora! Il lancio! Bellissimo! Favorire De Frey! La palla! Non si deve niente! C'è il palo che è in palma! Un controllo bellissimo! E' subito il pallonetto! Però! Un'occasione! Un'occasione! Un gol per il Sassuolo! Un vantaggio con De Frey! Alla fine è poco tempo! Sassuolo che ora cercherà di portare al riposo questo risultato! Ancora! Raspador! Bellissimo! Bravo ragazzo! Gerardi cerca di tenere il pallone ma non ci riesce ovviamente! IMA! Un brutto contro piede ragazzi! Un brutto contro piede ragazzi! Siiiiiii! Un poche un cavolo! Mi ha scacciato! Che è? Invegliati! Cacchina! Il disumane ruolo! Non pazzi! Mi sento il puro tempo! Ho le statistiche! Per chi possa interessare! No! Un sassuolo con 57... Un tiro in porta! Tio! Contro sempre di Juve! Scandaloso! Solo possesso per il sassuolo! Come il solito! Scandaloso! Scandaloso! e ci va al secondo tempo incredibile partiti per il secondo tempo c'è poco fallo buone buone ci va ci va dai che ne fanno dai che ne fanno che sfiga sai di merda c'è quelle fasce che lavorano bene il resto rischiamo sempre le fasce lavorano bene ci trovano bene ragazzi che schifo fai che controllo è dai ma cos'io concentrati cos'io non si può andare a pallinare e gestirla così palla che si impegna questo qua tira il volo ma carica troppo potere potere tifosi chiamano la Juve che roba che roba che fanno chi usa benissimo incredibile bene bene bello chiusura bravi ragazzi e cosa fai bravissimo per andarti ancora muldor muldor sei migliore vai però te bravissimo cos'è e guarda che cosa io l'avevo caricato da centro campo ormai l'avevo già caricato ma che si inserisce benissimo che bravo Sassuolo rabbio svegliati un po' rabbio già Sassuolo è troppo lungo sta troppo corto è troppo corto è guarda 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 non monta non è fallo niente si parte il contropiede qua è un po' incredibile è un massacro se suole il contropiede incredibile io sono uscito a fare la doppio è incredibile ma vai le ho fatta le ho fatta ma non vai mai giù bella bravo ragazzo che sei che bravo ragazzo che lavoro che cosa vuoi il gioco? di un millimetro non è un millimetro no di uno ottimo ottimo allora sbattiamo sbattiamola in mezzo spissi dai spissa in mezzo tirati le dire nelle scatole arbitro e va che è più lunga dammela la prossima volta magari così magari non la prendo è più lunga chiudo benissimo vai arcini si riparte qua benissimo con raspadà il cuore si scatena ma che schifo di scatena ti hai fatto schifo bravissimo si dorme come delle cucurite sveglia cucurite ahahah e io mi sento passare il tempo un missile un missile ferraria quella sessuale che si propone cia 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 un missile un missile ma cos'è quella roba qua ma come fai che è da solo e va che incredibile sassuolo che si fuma il gun e ora la vedo grigia dopo questi errori terribili ora spazia sassuolo non perdiamo la calma ragazzi un bel sassuolo ancora ancora bello dai è ottimo questo sassuolo è ottimo nonostante che ha sbagliato un gol impossibile guattre ma no ma no ma no ma no no ma no 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 OTNNEOkay Vazquez, va tutti Vazquez, va sta facendo magia, non è venuta bravissimo per impedire la ripartenza primo cartellino giallo si è solo un po nervoso ma sveglia ma che porro, vinti minuti vinti minuti alla fine sessuolo, stop caro controlla che schifo fai idiota è un sacolo duro vabbè però dai figa non fischia male figa roba schifo è duro questo sessuolo è bello con sessuolo mudro fin in fondo cerca l'area di rigore la cerca ancora niente lo sta ultimo quarto d'ora di più recupero di partita ma che roba sessuolo ora più cattivo la partita si incattivisce cosa succederà? l'arbitro me la manda buona? no ma monito ci siamo a caso c'è solo il contropiede bellissimo partito Lopes 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 è veloce ragazzo sta bene e si vede ma che cerca di saltare niente l'errore però di di Alessandro oh mmm rischi pazzeschi ci sta andiamo che cazzo fai? mamma mia che salvataggio una cazzata terribile del sessuolo stava per innescare il gol della Juve chiudi no cosa fai le puoi chiedere? dai dai hai otto minuti ragazzi resistiamo oh consigli dice di no a quello lì che non so chi sia chi è? che roba consigli lanza e si esalta per un tiro centrale però improvviso dai ma c'è qualcuno e giù bravissimo fa le mani di consigli tutti per terra tutti giù per terra guarda ottimo tu visto? mmm mmm è il rellico tutto va è fulsa è già murito in dieci si sottola 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 cinque minuti da fine su suolo ora ovviamente c'è un cambio di formazione il sessuolo prima di questa punizione la penita butta no devi sbagliare di fare gol così sarebbe uno schifo io posso fare punizioni tu no ahahahah è un sessuolo che si chiude un po' mettiamo raspedori facciamo raspar centro campo si chiude un po' il sessuolo ultima chance forse per la Juve secondo a mio parere almeno ho parito parata i corsigli tiro centrale guardate quella punizione abbastanza centrale ancora ancora fa le mani di consigli no 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 in bocca no oh idiota è fallo non va più roba ma che roba e se con la tecnica la tieni si fa far fallo non lo vogliamo vedere ma si sa che c'è e ora la buttiamo alla riva del parroco ma va che guerra ahahahah ma che schifo ma che roba 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 mi ha richiamato verbalmente ma che roba ma che roba ha detto hai fatto una buona partita ma che roba non ti ammonisco non mi ha neanche ammonito che credi roba ottimo questo bilancio va cà ma che roba scorretezio del sassuolo no bella madre vuole mi cartellini anche del file perde la testa sente la paura il sassuolo effettivamente no bella madre eh vabbè giochiamo all'alliance ancora lì no cazzo non volevo non volevo farlo hai niente conto no figa no mi tocca beccare una punizione precolosissima no no non dovevo proprio dà questa è stata una cagata perché è molto vicino all'arro ho sbagliato lo fa sedere per terra però ultima chance per la Juve l'eroggeo primo ma questa secondo me è veramente l'ultima Benissimo e c'è caccio d'angolo ultimi scampoli di partita per la Juventus via non deve entrare spazio a casa va il consiglio non deve entrare tessile papabile ma non perde le staff il sessuolo e ora riparte con concentrazione stavolta si un inbucato incredibile parata stavolta di Scesni al 93esimo dice di no non è uscito non tiene la calma anche la Juve però ma che roba ma che roba con il sommaro lì ed è finito il sessuolo la porta a casa all'Agnan Stadium è sfugnato finisce 1-0 con gol di Defraim sicuramente le statistiche credo che parleranno a favore della Juve ma vediamo credo possesso Juventus con 16 tiri di cui 9 in porta il doppio di quelli del sessuolo anzi in totale il triplo quasi i tiri nello specchio il doppio dei tiri 9 a 4 sessuolo concreto e Juventus che perde la prima punta in casa 8 calci d'angolo e ho 1 una difesa ottima del sessuolo un po' di culo anche direi vagamente vi salutiamo da questo primo incontro che la Juventus ovviamente dello si auguri che non sia reale al risultato saluti a tutti ciao ciao